Nome? Tommaso Mascolo. Cognome? Già detto, Tommaso Mascolo. Mascolo Tommaso. Età? 42. Città natale? Ischia. Lavoro? Va. Classico freestyle? Classico. Perché? Perché comprende tutto. Nome del locale? Caffè di a bere. Cosa ti piace del tuo lavoro? Tutto, la possibilità di non avere l'uomo. Hobby? Restauro mezz'epoca. Il nome del tuo cocktail? Mandarin Spice. Perché dovresti vincere tu? Perché mi piacerebbe portare il brand dell'Absolute in giro per l'uomo. Cosa vuoi dire a chi ti seguirà sul web? Votatemi e datemi questa possibilità. Fai un saluto. Ciao.